Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se voi non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo, o quelle diciotto persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo», diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo «Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai». Ben ritrovati, carissimi amici. Ancora per voi il saluto francescano di pace e bene. Convertitevi, dice il Signore, il Regno dei Cieli è vicino. È il versetto che ci introdurrà all'ascolto del Vangelo della terza domenica di Quaresima. Dove davvero è insistente, a tratti drammatico, l'invito di Gesù alla conversione. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cioè nel modo di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici e che Gesù non ritiene assolutamente più peccatori di tutti i Galilei. E poi insiste ricordando anche le 18 persone che morirono sotto il crollo della torre di Siloe. Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Dice Gesù. No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. L'invito alla conversione risuona fortemente in questo tempo di Quaresima. Sin dall'inizio del mercoledì, nelle ceneri, abbiamo ricominciato a sentire con insistenza questa esortazione di Gesù. Dobbiamo convertirci. E la conversione non è altro che un cambiamento di rotta, è una progressiva lotta per vincere l'uomo vecchio e far sì che domini l'uomo nuovo, che non può che portare frutti di vita nuova. È tempo allora di prendersi cura sul serio della nostra vita spirituale. Questo è anche il senso della parabola che conclude il brano evangelico di questa domenica. Un tale, ascolteremo, aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo, dunque. Ma quello gli rispose, padrone, lascialo ancora quest'anno, perché io gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Gesù, carissimi fratelli e sorelle, si sta prendendo cura di noi perché possiamo portare frutti, come dicevo poc'anzi, di vita nuova. Non potrà essere diversamente se noi davvero nella nostra vita facciamo la scelta di Gesù. Altrimenti siamo proprio come l'albero della parabola, piantati sì nella vigna del Signore, ma non meritevoli di succhiare al terreno della sua grazia. La missione di Gesù è principalmente quella di liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte. È quella di portarci definitivamente alla comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nella stessa missione, qui è chiamato Mosè, quella cioè di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, di cui sentiremo parlare nella prima lettura, è prefigurata proprio la missione di Gesù, che è appunto quella di portare nel suo amore l'umanità intera. Anche noi, carissimi amici, siamo invitati ad attraversare il deserto del nostro peccato, per superarlo, per vincerlo e per farlo fiorire questa volta di frutti nuovi della grazia. Convertiamoci allora perché il Regno dei Cieli è vicino. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.